Oggi volevo dire una cosa sull'isola di famosa di quest'anno. Allora, ha iniziato tanto bene, no? C'era anche questa tizia che si chiama Tenormega, che era anche un carco gustoso guardarla. Ti guardi, sta piantina, tecola, che gira e rigira. Poi, subito all'inizio della puntata, dopo che sono andati dentro tutti, sai da fuori che Tenormega ha postato un video su Instagram che dice tre settimane e conquistiamo il mondo. Cioè, dice, torno fra tre settimane. Ma cazzo! Ma perché vai a postare un video così su internet? Ma lo sai che internet lo vedono tutti? Ma dove sta la tua intelligenza? E dice, tre settimane torniamo e conquistiamo il mondo. E invece è stata via solo una settimana perché noi l'abbiamo eliminata. e abbiamo fatto, non dico benissimo, ma bene. Perché secondo il mio modesto parere, era meglio se la lasciavamo dentro, cioè dentro o sull'isola, la lasciavamo sull'isola fino a che non finiva. Così risceltava tutte quelle sue cazzo di sabate che aveva. E invece dopo la settimana, a casa. Il problema che adesso di dentro manca figa. Perchè? Per guardare con più gusto l'isola dei famosi ci vorrebbe quella spinta in più. Per staremo a vedere. Un po' più buono.